Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati su BTC con questo nuovo episodio della custom map di Minecraft Ci buttiamo subito Eeeh ma io dico subito immediatamente però datemi un po' di tempo Allora questa sembra essere una prigione Ci stanno sfondando Questi vogliono sfondare le porte Allora stiamo attendo a non camminare vicino alle grade altrimenti questi ci sacagnano di botte Eeeh prendiamo tutto quello che possiamo E direi Ah 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 ci sono delle casse da loro E qui ci sono le scale dell'ottavo piano Eeeh scusate ragazzi Eeeh quindi penso che se li canalizziamo Forse facciamo la miglior cosa Dovremmo canalizzarli Oh c'è un'altra cassa qui Cosa c'è? Ossa Ossa Allora canalizziamoli ok Qui non c'è niente Qui non c'è niente e qui si Quindi apro e canalizzo Tanto c'è solo un'uscita La spada La spada non sarà delle fortissime però Ce la dovremmo fare Dovremmo Io comunque mi sto a sentire Ste urla Che urla qua Ci fate caso? Oh no no questo non l'avevo visto Questo non l'avevo visto Ce n'è un altro qua dietro Lo t'ho visto Ok cosa c'è qui? Pozione di cura E per dare una pressione ponderata Però fermi tutti Qui cosa c'è? L'ender chest In cui io ci metterei L'armatura d'oro Gliela mettere dentro Anche le corde Gli occhi di ragno Le ossa La patata ne la tengo La torcia me la tengo I cervelli di poso La testa di questo la poso E possiamo andare così Mi mangerei una bistecca E Magari provo a prendermi un letto Provo a prendermi un letto Oddio la botta di lag Non posso dormire Bene E Quale altra porta possiamo Eh questa però siamo più stretti Qua eh Qua stiamo Eh lo sapevo Qua eravamo più stretti Ma poi fanno degli scatti Non so se li avete notati Fanno degli scatti in avanti Incredibili E ci E ti acchiappano Mannaccia le prigioni Però Già in confronto Ai ragni Come livello È molto più tranquillo Eh Oh Arco potenza 2 Me lo prendo tutto Proprio tutto Posso dormire No Nemmeno ora E Dovremmo far Dovremmo aver preso tutto Penso La pedana ce l'abbiamo Quindi Dovremmo aver preso tutto Proviamo Pedana Porta apriti Vai Lava Ragazzi C'è della lava Oh porca miseria E mo Minchia Minchia Questa zona La vedo Estremamente Pericolosa Io non vedo Niente E dopo Ho dovuto aprire le casse Mannaccia la miseria Questa torcia La porterò In capo al mondo C'è una leva Cosa ho fatto Cosa ho fatto Sponare Kuro ma se sai che Le leve C'è una C'è una cosa Qui Torcia Torcia C'è la ender E ci sono le frecce Poi uno dice Kuro ma se sai che Di sicuro Si spona qualcosa Scale non ho piano Ok qui ci sono le scale Ragazzi I piani Mi è stato detto Dovrebbero essere Circa 43 Quindi Abbiamo un sacco Di tempo Per divertirci E vedermi morire Pesce Salmone 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 cotto Salmone cotto Ho semplicemente Paura Sbagliare A cliccare Leva O simili Sotto perché Comincio a sentire Brutti versi E questo piano Lo vedo Estremamente Grande Generazione Si fanno Sempre più Forte Oh 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 C'è stato anche Un brutto suono Bruttissimo Suono Sei leve Oh Ma che cazzo C'è una pedana C'è mi serve Cazzo Cazzo E mo Aspettate Torcia Vieni a me In quella zona Sento troppi Ragazzi Cioè se sbaglio Ad aprire Cioè se sbaglio A cliccare Leva Mi sa che Spona Lira di Dio Qua dentro Mi sa che Qua dentro Spona Lira di Dio Se io muoio Quale sarà La leva Giusta Che sia Questa No Mi metto Già la spada Oh 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 Ho attivato Qualcosa Cazzo Oh Porca Miseria Cosa Ho creato No 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 ragazzi no Ma non Non finiscono più Ragazzi Mi serve un aiutino Quanti sono questi creeper Perché non finiscono Finiti Finiti No qua dentro Non c'è niente Mi sono perso La cosa per strada Mi sa che Qua dentro Non so Ma cazzo Ci devo arrivare Oddio mio Ok 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 Calma Curo Troveremo un modo Per entrare qui dentro Oh Aspettate ho aperto qualcosa qui Ecco Una pedana Avevo aperto qualcosa Qui in giro Cioè con quelle leve Penso di avere aperto qualcosa O non le ho viste io Ma le ho viste ora Però Almeno Qua è da dove sono Sponati i creeper Scommetto Eccoli Bastardi Che non siete altro Ok abbiamo La pedana Però lì c'è una porta Che potrei aprire Io Non lo so Ragazzi Non lo so Meglio Andare ad aprire La nostra porta E andarcene A piano superiore Perché non ho Un buon Presentimento Via Oh Voglio uscirmi Dalle posti bui Piano Nono Nono piano Bollente Cazzo No Cazzo Qua ci muoio di sicuro Porca miseria Oddio mio Ho troppa roba Per morire E sponerò Troppo lontano Se muoio Perché non posso Dormire Cosa ho fatto Sponare Mi stava Ancora danneggiando Io da allora Davvero Ho fatto Sponare I blades Ragazzi Ragazzi Ho fatto Sponare I blades Facciamo una cosa Io voglio Aspettare Almeno Cazzo Vorrei Aspettare Almeno Che si Faccia Notte Per dormire Almeno Ok Ragazzi Ho dormito Unico Problema Vorrei Posare La mia Roba In una Chest No Mi sa Che siamo Crepati Ormai Porca Put No Non dirò Parolacce Non dirò Parolacce Non dirò Eh Ma Vaffanculo Ragazzi Eh Come ce ne usciamo Da questo piano Scusatemi No È impossibile Ci bersagliano Ci massacrano Di botte No Non ci riuscirò Mai Non ci riuscirò Mai Ma Vaffanculo Ah Devo togliere Assolutamente La shader Scusatemi Eh Ok Mi serve Il massimo Degli fps Che posso Avere Ah Ora Si che si ragiona Per saltare Quei due fps Guadagnati Servono Però mi fate Troppo danno Quei brutti Figli Di una grande Nera Cioè Non posso Fare anche Matrix E scansarmi Colpi Però Eh Abbiamo capito Che Le sezioni Platform Devo farle Per forza Di cose Senza La shader Per forza Proprio Ok Non deve Uh La pedana Mi servirebbe Una cazzo Di Cazzo Ma Smo se muoio Devo Riavviare Il livello Naturalmente Allegria Dai Che ce la facciamo Questa volta Mi manca Un salto Oh Via Oh cazzo Ce l'ho fatta Madonna Madonna No 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 Apritemi Fatemi uscire Da qui Oddio Mio ce l'ho fatta Non ho niente Non ho niente Non ho niente Non ho un cazzo di niente Proprio Vi prego Non fatemi No 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 Non clicco leve No 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 Finchè non ho un'arma Non clicco leve Basta Ok Ma almeno abbiamo Abbiamo Un po' di difesa Ma finchè non Non ho un'arma Non voglio cliccare leve Una zuppa Che ora Come ora Non mi serve a niente Mi serve un'arma Cazzo Mi serve Una cazzo Di arma Dove la vado a prendere Ma ho un'altra zuppa Di certo non posso picchiare Con la zuppa Io Scala dell'undicesimo piano Ma quanto sono bastardi Sti livelli Una scala a pioli Una scala a pioli Perché darmi una scala a pioli Perché darmi una scala a pioli Pensateci Può essere che c'è qualcosa Da sopra Non lo so Ma so Ma so che devo cliccare Questa leve E prepararmi al combattimento Cosa ho Creato Oh Devo muovermi Pedana 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 Armi No niente Non è il motivo di amante C'è qualcosa qui sopra Non c'è niente Non c'è un'arma Non c'è niente di niente Fugo Fugo No La pedana Non me la fa mettere Oddio mio Oddio mio Ce l'ho fatta Oddio mio Ce l'ho fatta Sono uno stronzo Oh No 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 e 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 no Stavo per morire E rinascere Nel livello Della lava Porca miseria Ci sono i pigman zombie ragazzi E non voglio assolutamente rischiare di inimicarmi Quindi ragazzi direi che per oggi Per oggi La puntata la possiamo terminare qui Sì sì assolutamente Perché sono già morto troppo volte Già sono morto troppo volte Questa cosa non mi piace per niente Per niente proprio che lì dentro ci sono i pigman zombie Quindi ragazzi mi raccomando Se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace Commentate Iscrivetevi al canale Per oggi è tutto Noi ci vediamo alla prossima puntata Ciao ragazzi